E continuiamo in questa seconda audio lezione a parlare degli ultimi anni di vita di Josephine e in seguito a parlare di quella che è stata la seconda imperatrice di Napoleone. Josephine deve accettare suo malgrado la separazione dal marito e qui si vede il momento in cui lei ha dovuto firmare ufficialmente la separazione il 15 dicembre del 1809 e verrà riconosciuto anche l'annullamento religioso il mese successivo nel 1810. Napoleone ha dovuto proprio scegliere la separazione perché non aveva avuto il tanto desiderato figlio. Giuseppina vive gli ultimi anni della sua vita presso Malmaison e morirà qualche anno dopo il 29 maggio del 1814. Trent'anni dopo verrà creata in suo ricordo una nuova specie di rose, una nuova specie di rosa che verrà proprio chiamata souvenir de Malmaison. Questa è la sua tomba perché Giuseppina verrà sepolta non lontano da questa sua residenza nella chiesa di Rueil. Sono stati girati più di 30 film che parlano di questo personaggio storico, di questa donna così importante nella vita di Napoleone. Una donna che è stata amata molto dai francesi e che è stata anche amata molto da Napoleone. È stata indimenticabile per lui, tant'è che gli storici dicono che negli ultimi momenti di vita di Napoleone, quando era in esilio all'isola di Sant'Elena, probabilmente proprio il giorno della sua morte, il 5 maggio del 1821, l'ultima parola che ha pronunciato Napoleone è stata proprio il nome di Giuseppina. Al momento di cercare una nuova consorte, Napoleone aveva considerato un certo numero, diciamo, di pretendenti. Ne aveva considerate ben 18 persone, di donne nobili in Europa. Aveva scartato quelle francesi, la scelta poteva essere la 14enne, sorella dello zar Alessandro I, ma la Russia si era assolutamente rifiutata di darla in sposa, oppure la 18enne Maria Luisa d'Asburgo. E in questo caso la scelta è poi stata destinata proprio verso di lei. Maria Luisa d'Asburgo era la primogenita dell'imperatore d'Austria Francesco I e di Maria Teresa delle Due Sicilie. Era nata a Vienna il 12 dicembre del 1791. Sua prozia era Maria Antonietta. L'imperatore d'Austria Francesco I, quindi, concede sua figlia al nemico di tante battaglie che hanno combattuto tra di loro. E il 2 aprile del 1810 al Louvre si celebra in Ponta Magna il grande matrimonio, che è un po' anche da suggello di quella che è stata precedentemente firmata, cioè la pace di Vienna tra la Francia, l'Austria e la coalizione. Quindi il 2 aprile del 1810 viene celebrato il matrimonio e un anno dopo, il 20 marzo 1811, finalmente nasce il tanto desiderato erede, il tanto desiderato figlio, che verrà battezzato Napoleone II, con i nomi di Napoleone Francesco Giuseppe Carlo. Si è anche denominato re di Roma. Maria Luisa è stata amata e rispettata da Napoleone, ma lei non ha mai tanto amato abitare a Parigi e non è neanche stata molto amata dal popolo parigino, che la chiamava l'Austriaca. Durante i periodi in cui Napoleone dovette andare in esilio, sia dopo la prima sconfitta a Lipsia e sia dopo la seconda sconfitta a Waterloo, lei non lo ha mai seguito in esilio, ha sempre deciso di ritornarsene a Vienna, che per lei era il luogo a cui era maggiormente legata. In seguito alla definitiva sconfitta di Napoleone a Waterloo e al suo definitivo esilio, l'isola di Sant'Elena, Maria Luisa d'Austria ottiene dal congresso di Vienna e precedentemente anche dal trattato di Fontainebleau, un riconoscimento molto importante. Viene riconosciuto a lei e alla sua discendenza la sovranità sul ducato di Parma, di Piacenza e di Guastalla. Quindi ha dovuto rinunciare al titolo di imperatrice, ma ha ottenuto proprio il dominio su questi territori molto importanti che si trovano in Italia. E il 7 marzo 1816 è partita per l'Italia. Solo due anni fa a Parma si sono celebrati i 200 anni dal momento in cui Maria Luisa d'Austria, che ha italianizzato il suo nome in Maria Luisa, in cui lei è proprio diventata duchessa di questi territori. Maria Luisa, infatti, è stata la duchessa più amata dai parmigiani. La sovrana, infatti, ha cambiato e ha migliorato molto il volto, l'aspetto di questi territori e in particolare di Parma. Si è sposata altre due volte, però con un matrimonio cosiddetto morganatico, cioè ha sposato degli uomini di rango inferiore, che non hanno però acquisito nessun titolo onorifico. Una volta nominata dal congresso di Vienna, duchessa di Parma, Piacenza e di Guastalla, lei ha appunto dovuto rinunciare al titolo di imperatrice e si è insediata in questo ducato. Il ducato all'inizio era povero, era oppresso dai debiti e ha iniziato ad intraprendere tutta una serie di lavori di recupero e di miglioramento. La prima cosa che ha fatto è la realizzazione di un ponte sul fiume Taro, che prima era semplicemente un ponte in legno. Poi ha voluto la costruzione di un importante teatro ducale e ha cercato addirittura di sensibilizzare ai problemi della gente comune, delle donne in particolare, facendo costruire un ostello per ragazze e madri. A Parma si trova un museo importante che si chiama Museo Glauco Lombardi e che raccoglie tutti i cimeli, tutti i ricordi e le testimonianze dell'insediamento di questa importante donna in questo ducato. E come potete vedere c'è anche in questo caso un fiore, un fiore che la rappresenta e che dimostra come lei era proprio amante delle passeggiate e anche lei dei fiori. È una viola, sì, perché Maria Luisa, Maria Luigia, per i parmigiani, era amante delle viole. E questa è proprio la cosiddetta violetta di Parma. Ne aveva tantissime, ne faceva coltivare tantissime nell'orto botanico. Addirittura, quando scriveva, perché lei adorava molto scrivere lettere ai familiari, invece di firmare con il suo nome, al posto della firma, lei disegnava una violetta. Era riuscita a fare anche estrarre da dei monaci una prima essenza da questo fiore, tant'è che negli anni seguenti da questo tipo di viola verrà estratto in maniera molto più diffusa un famoso profumo che ancora adesso è denominato violetta di Parma e che era diventato di gran moda tra le dame del tempo. Lei amava proprio il colore viola e lo aveva proprio anche trasmesso negli anni in cui viveva a fianco di Napoleone sia nell'abbigliamento e addirittura anche nei paggetti e nella servitù che vivevano alla sua corte. Maria Luisa muore a Parma il 17 dicembre nel 1847 e viene sepolta nella cripta dei Cappuccini a Vienna.